Gareggiamo o restiamo qui parcheggiati tutto il giorno? Cominciamo subito! Cominciamo subito! Cominciamo subito! Corra qui! Le basse speciali sono... Ma non devo farlo mai più! Ora ti mostro un paio di cose! Come è andato così veloce? Pensa qui in questo! Su! Il ruolo vi renderà superiore? In the zone, ready! La macchina è più veloce! Ora ti mostro un paio di cose! Ready! Ci sono le altre macchine da corsa! Vatevi sotto! Io sono pronto! E' molto più veloce! E' molto più veloce! Il ruolo vi renderà superiore? Buon'altro! Guarda! Io sono le due! È molto più veloce! E' 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 molto più veloce! E là! Ci si rivede! No, non devo farlo, fai più!